Buongiorno Peppe, buongiorno Davide, oggi è il 21 di agosto 2012, sono le 6 e 47 minuti, sono sull'8575, il treno come puoi vedere è scassato, come potete vedere, in più vi faccio vedere una bella cosetta, se io dovessi passare da un vagone all'alto, guarda cosa succede, voilà! C'è una puzza incredibile, un cattivo odore diciamo, non si può stare! Queste sono le condizioni in cui si viaggia oggi, stamattina, comunque farò in modo di riprendermi, siamo arrivati mi sembra da Cilea, no, Guardia, siamo a Guardia Mangano, E se i binari li conosci? Penso di sì! Bene, comunque mi riprenderò non appena arrivo ad Augusta, in quanto mi sono portato a casa delle prelibatezze che avrei potuto condividere con voi due, ma dovrò condividere con un caro amico ad Augusta. Alla prossima, poi ti farò sapere a che ora è arrivato questo 8575. Da Guardia è tutto, Trenitalia, Giorgio Alati.